Buonasera ragazzuoli, buonasera, 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 buonasera ragazzuoli, buonasera raga, sono le 20.57, le 21 precise raga, iniziamo perché non vedo l'ora di vedere come va avanti, non vedo l'ora di giocare, quindi. Allora, tra poco dovrebbe arrivare la notifichetta in chat che la live è iniziata, in teoria, vediamo un po' se arriva. Intanto do il benvenuto a chiunque si stia connettendo, vedo che il numero sta salendo, buonasera ragazzuoli, buonasera, buonasera a tutti. Niente, la notifica stasera non vuole uscire. Ah, eccola qua, l'hai iniziata, breve cominceremo. Ottimo. Ok raga, due minuti, iniziamo eh, facciamo anche 3-4 minuti, tanto ormai, cioè è iniziata adesso la live, quindi non l'ho proprio iniziata alle 55, quindi. Raga fa un caldo, tutto un botto poi eh, cioè fino a tipo 5 giorni fa pioveva sempre, c'era un freddo, sembrava autunno. Adesso è iniziata l'estate e faccio un 40 gradi all'ombra, una cosa incredibile. Infatti oggi abbiamo portato sui ventilatori ragazzi perché veramente non si può andare avanti così. Manca il fiato. Ragazzi, se vedete dietro la tenda che si muove non ci sono i fantasmi, è che c'è il ventilatore che... ... ... ... ... ... ... E' arrivata la mia modellatrice preferita e unica modellatrice Bene Ragazzi voi tra l'altro io ci tengo adesso a fare Ci tengo a fare la classifica, cioè a dirvi più che altro la classifica Dei punti fedeltà ragazzi perché abbiamo attivato questo Questa impostazione molto figa dei punti fedeltà Ah tra l'altro ragazzi io doveroso ricordarlo Sotto nella live se andate sotto ragazzi sono i banner Le appunto le immagini con i banner Dove potete fare anche la donazione ragazzi se volete eh mi sarebbe di grandissimo aiuto Io lo dico sempre, lo diciamo lo ricordo appunto anche per magari chi si connette di nuovo che non lo sa E niente trovate anche le regole, gli orari e tutto quello che c'è da sapere Allora andiamo un attimo, adesso è prima di iniziare Vado un attimo su il sito collegato a Twitch per Eh farvi la La classifica, cioè dirvi la classifica Dirvi ringraziare la classifica Dei punti fedeltà Allora classifica Eccoli qua Allora prima ragazzi in assoluto vabbè Il mio amore è Engie che ha 370 punti Ci sta ragazzi anche la mia amore deratrice Mi supporta sempre Ti amo tantissimo Quindi ragazzi Engie è prima Poi secondo c'è un certo o una certa, non so se sia maschio o femmina Srips B Che ha 360 punti Non ha mai commentato, comunque io lo saluto, lo saluto Grazie mille Con 360 punti Mentre terzo Another Another TV Viver 350 punti Grazie mille Quarto Commander Commander Root 340 punti Grazie tantissimo anche a te Quinto Lurx 270 punti Sesto Mariano Nero azzurro Ciao Mariano 210 punti Lemon Juice 12 con 200 punti Rubber Slayer 190 punti Ottavo Poi c'è Dicur Con Nono 180 punti E ragazzi Decimo Alessio Vabbè Alessio codice fiscale Perché c'ha mille numeri Alessio 19 8708 777 Con 170 punti Mentre ragazzi Ringrazio appunto I primi 10 Però ce ne sono altri sotto Vabbè Ringrazio i primi 10 Facciamo così Così vi impegnate anche Per i punti fedeltà E Grazie a tutti voi ragazzi Vi voglio un bene dell'anima E Aspetta Qua ce l'ho Ok E nulla ragazzi Nulla Adesso iniziamo A breve iniziamo Dai Iniziamo che sono carico Sono curioso Voglio vedere come va avanti Continua Infiltrazione Vi ricordo ragazzi Che siamo arrivati Eeeh Infatti All'acquario Come dice Angie Nei commenti Siamo arrivati all'acquario Dove dovrebbe esserci Dovrebbe La nostra cara Anzi cara no Abby Finalmente E il nostro caro Tommy Speriamo Ricordo che Jesse Ci ha abbandonati Alla nostra sorte E ci sono rimasto Totalmente di merda Veramente Eeeh Vediamo un po' Come va avanti Ah Michael Reghini in live Mi è arrivata la notifica Michael Reghini in live Forse porterà anche lui Vedrà sto phase 2 Non lo so Vabbè Regà Dai 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 Si va avanti Si va avanti Ragazzi Ah ok Ok Vabbè vorrei vedere Ragazzi Si hanno annunciato Crash Bandicoot 4 Tra l'altro Porterò su Twitch Anche quello Assolutamente Anzi Vorrei portare Tutte e tre I crash Perché ce li ho Quindi dopo della sua phase 2 Magari ci facciamo I crash Bandicoot Ragazzi Non sarebbe male I live Gli scleric Quelli belli Eccoci Eccoci qua ragazzi Allora Pronti Entriamo nel mood Tu Ellie Sei pronta Anche tu Aquarium Ragazzi Ragazzi ho paura Come sempre Però C'è paura di quello che potrebbe succedere Ricordo che se sentite una specie di vento Spero di no Non dovrebbe sentirsi Perché tanto oggi non si sentiva È il ventilatore Quindi Anche se no muoio Chiuso Mamma mia ragazzi Abbiamo fatto una faticaccia Per arrivare a sto acquario Non indifferente Mamma mia Povera Ellie La qui anche si può entrare Ragazzi guardate il vetro Guardate le gocce Di pioggia sul vetro Mamma mia Cioè ragazzi Io dopo tre Io dopo Quanta è? 16 ore Di gioco Sto ancora qua a stupirmi Sto guardando se c'è qualcosa Ragazzi Perché Infatti Voi c'è una bottiglia Ma non possiamo prenderla Ce l'abbiamo già al massimo Qui si può entrare Sul retro Va bene Non c'è Non sembra esserci più nulla Mamma mia ragazzi È una brutta sensazione Non so perché Chiusa Ok Quindi dove c'è la rete Spaccata Sul retro Sicuramente Sicuramente Non so perché C'è una canalla Oddio uno squalo, uno squalo finto per fortuna, oh santa miseria. Ho una certa ansietta, raga. Ok, qua si può andare. Ma prima, come sempre, esploriamo tutto bene. Si può sbloccare questa? No. Mamma mia ragazzi, che atmosfera pure coi tuoni, puzzolandia. E' Abby, non fammi scherzi eh. Vieni fuori. O meglio ancora Tommy, vieni fuori. Allora, facciamoci una mort of. Ok, ci possiamo fare anche il macete, però aspettiamo, visto che ce l'abbiamo ancora intatto. Non sperchiamo le risorse, certamente così. Cos'è questa roba? E' una specie di laboratorio, effettivamente. In un acquario. Che figata ragazzi, qua c'erano i pesci dentro una volta. Che schifo. Cioè che figata. Se c'è uno squalo ancora vivo infetto, mi, 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 mi. Urlo, scappo fuori dal balcone. Che figata. Allora, qui ci si può buttare, però... Anche di qua c'è della roba. E' sentito dei rumori, no? Cioè, potrebbe essere rumori ambientali. Tipo il metallo che scricchiola, quella cosa lì. Però... Eh, qua si potrà rompere il vetro. Non si può buttare il vetro. Non si può buttare. Allora. Allora. Buono Non so adesso se spaccare il vetro O andare prima di qua Che dietro il vetro potrebbero esserci Robbe Oddio poi magari mi sa che si collega Sì infatti mi sa che è la stessa stanza Dove cazzo sei? Yes Si collega Vabbè spacchiamo il vetro O no Deve esserci un modo Vetro indistruttibile? Davvero? Un modo C'è un condotto d'aria Ah ah infatti Ok Aspetta è lì Ok no Mi fa montare il sensatore nel condotto Non so perché No 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 Lo sapevo io lo sapevo Lo sapevo Porca merda No cucciolo Eh cucciolo un paio di ciufale però mi stavi sbranando Non è che per Eh Mamma mia ragazzi Che ci faceva un cane qua dentro? C'è gente allora? Eh non poteva essere da solo il cane Forse è il cane di Abby Può essere? What the fuck Cosa è successo qui? Io forse ho capito cos'è sta roba Abby è impazzita Ossessionata di cercare una cura Un vaccino E ha trapiantato qualcosa da altra gente Per fare esperimenti personali C'ho sto brutto presentimento Signore santo Una psicopatica quella lì Qua si può andare Aspetta però Di là anche si può andare Bloccata C'era qualcuno qua ragazzi C'era qualcuno C'era qualcuno E anche di recente Però è più di una persona ragazzi Ci sono più letti Quindi non c'è solo Abby qua dentro Aspetta un attimo Merda Owen Ci sono Ci sono Owen e Abby allora Tutto e due Ed era lui anche lui Una luce Che è scritto? Owen more Bloccata anche questa Bloccata anche questa C'è qualcuno ragazzi? Sono loro? Andiamo Scopriamolo Sono loro Sono loro E' rischiato la vita per te E' la sua scelta Io non ci vado Cazzo Allora resta Torna indietro E' la sua scelta E' la sua scelta E' la sua scelta Mani in alto Dove è Abby? Sei la ragazza di Jackson? Ditemi dove è andata E se poi ci uccidi? Se accette di parlare Ti uccide Voi ne uscirete vivi Mi interessa lei Cazzate La sua tizia è incinta Stavo usando la tattica Di Joel Ma che ti sparo Indicami dov'è Dimmi dov'è Guarda sto bastardo Oh Oh Ellie Ma stavo premendo Quadrato Quella roba Ma che cazzo Vaffanculo Troia Vaffanculo Stronza Raga premevo Prima non andava Dimmi dov'è Minchia li ha ammazzati così Oh porca puttana Mi sa che lei era incinta Sta qua però eh Lui Infatti Porca merda Era incinta Tommi Ti spiace Va tutto bene Forza andiamo Andiamo Va tutto bene Eh raga però Mi stava Accoltellando eh Poteva disarmarla Effettivamente Non accoltellarla Però che cazzo ne sapeva lei Cioè noi lo sapevamo Ma lei no Lei ha pensato Solo a difendersi Che cazzo ne sapeva lei E Abby non c'era ragazzi Neanche lì Però ora rimane solo lei Teoricamente Cioè Abbiamo fatti fuori tutti Praticamente Eh si Rimane solo Abby Abby e Isaac Il capo Del Dei lupi Madonna raga Che botta psicologica Pure questa Ci ha ammazzato Una donna incinta Raga Porca puttana Cioè Botta psicologica Perché comunque Ellie Non è una persona Che uccide Un bambino Per dirvi Quindi Cavolo Però abbiamo trovato Tommy Finalmente È inutile Sarà tutto ricoperto Di neve No Il tempo di arrivare Si sarà sciolta Dove vai? Mi serviva aria Voi che combinate? Non si dorme Dai un'occhiata qui Pensavamo di tornare via Ellesburg Se domani arriviamo a For City È fatta Ehi Hanno avuto ciò che meritavano Eh ma il bambino È ancora viva Il bambino è innocente Era Lei sì Per carità Sì Va bene per te Deve per forza Non muoio dalla voglia Di passare di nuovo Dall'Aida Preoccupati piuttosto Di come ti accoglierà Maria al tuo ritorno Ne ho fatto di peggio Comunque In uno dei quartieri Eleganti della città Ho trovato una collana Luccica parecchio Penso sia oro vero Pensi sia oro vero? Sì È oro Vediamola Guarda che so riconoscere l'oro Allora diciamo che È da parte di tutti? Perché non ti trovi un regalo da solo Eh sì cazzo Infatti era simbolico Quella scena Che si vedeva il sangue Come stai? Cioè rappresentava quello Bene È lì Bene È mica tanto È piccolina Grazie per essere tornato per me I guai dei miei amici sono i miei Come la fai tragica? Beh allora diciamo che Mi diverto a tirarti fuori dai guai Ti sei salvato te Sia perde Merda Oh cazzo Nooo Jesse Alzati Nooo Nooo Ho ammazzato Jesse Questa è quella puttana di Enzo Gabby sicuro E lei Lo sapevo figlia di bu Madonna Ti ammazzo Ti ammazzo Ti ammazzo froni di merda Getta l'arma Getta l'arma So perché hai ucciso Joel Ha fatto quello che ha fatto per salvarmi È colpa mia se non c'è una cura Sono io quella che cerchi Lascialo andare Hai ucciso i miei amici E tu i miei Stronza Vi abbiamo risparmiati E ci ricambiate così E mo' Raga c'è Dina C'è Dina di là Oddio Ma è abita piccola questa No dovrei giocare ancora con questa stronza Ma non voglio neanche usarla sta qua Guarda Non voglio usarla Mi fa schifo Oddio Oddio Sì Comunque ha sempre avuto un fisico da uomo È una cosa incredibile Guarda Non mi interessa se ci fanno empati Non mi interessa se ci fanno empatizzare con sta zoccola Io non Guarda Non mi commuoverò neanche se vedo il suo padre che viene sbranato Non me ne frega niente La voglio solo uccidere sta qua Non me ne frega E non te che ci prova una formula a usare Per empatizzare con lei Ha perso il padre Ma dove Ma 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 Guarda Papà Dove sei Che c***o Che c***o Ma 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 Che ...Virginia. Ti potete rompere il collo da piccola? Ragazzi non mi interessa, non ce la faranno mai a farmi affezionare a sta qua. Non ce la faranno mai, non mi interessa. La odio, la detesto. Si occupano per la tua sicurezza. Questo bosco è sicuro. Papà. Abby, so che è passata dietro questa fila di alberi. E? Partorirà giorni, controlliamo che stia bene e poi rientriamo. Te lo prometto. Partorirà, ma che è un animale? Basta che facciamo in fretta. Visto? Ci pensa la mia bambina a proteggermi. Ho tradito. 13 minuti viene sbranato qualcosa. Ha fatto il suo dovere. Come l'hai convinto a parlare? Ho solo chiesto. Ma quindi Owen è il fratello di Abby? Questo presentimento. Dà un'occhiata. Oh, wow. 1978. Manca nella mia collezione. Puoi tenerla. Ma solo se mi prometti che è l'ultima volta. Ok, affare fatto. Sai che non ti credo. Non capisco come mai. Forza. Cerchiamo ancora. Papà. Rilassati. Tra poco potrai tornare da Owen. Aspetta con me. Niente. Solo, ho notato che siete spesso insieme. Ah no, non è il fratello. Non è il solito. Oddio. Da quant'è che lo sai? Sono tuo padre. Noto i dettagli. Ah, stavamo pure insieme allora. Fate di tutto per non incrociare gli sguardi in mia presenza. Diventate tutti seri. Siete tenevi. No, è impossibile. Ora si spiega perché... C'è rimasta di merda quando lui ha detto che l'ha messo incinta l'altra. Solo perché è un cretino. È diventato molto gentile con me. Oddio. Ed è a disagio quando deve tenermi d'ora. Che figata sta roba dentro una balena. Ti approfitti di lui. Io. Figurati. Ma che figo sto posto. Magari è un parco... Abbey, guarda. Tracce fresche. Aspetta. È un modo subdolo per insegnarmi a seguire le tracce, vero? Non oserei mai. Sta funzionando? Beh, in effetti ti ho trovato. Sì, ma... Hai varato. Il fine giustifica i mezzi. Wow. Allora mi ascolti. Hai i tuoi momenti di saggezza. Vediamo se c'è qualcos'altro. Perché ci stanno facendo vedere sta cosa? Stiamo seguendo un cervo? Oddio. Ma vuole tu uccidere il cervo o vuole salvarlo? Non ho capito. Volevamo salvarlo da degli infetti? Aspetta. Potrebbero esserci degli infetti. Questa zona è sicura. Sai che si spostano. Sei armata, giusto? Certo. Merda. Abbey. Povera. Dobbiamo liberarla. La zebra. E' tutto a posto, buona. Calma. Vogliamo aiutarmi. Tranquilla. Il precedente è in profondità. Ok, ok. Abbey, vieni. Porca torata che male. Ecco. La tengo ferma. Cioè che l'uomo è proprio bastardo, eh. Buona. Ma di... Ehi Doc, sei qui? Sono qui Owen. Cosa? Ehi, vieni. Tieni la ferma. C'è bisogno di te, Owen. Tieni la. Avanti. Qui, occhio. Ok. Ce l'hai? Sì. Bene. Avvicinati. Al mare. Quasi. Ok. Poverina. Ti stanno cercando tutti. Dobbiamo... Aspetta! Papà! Che succede? Vieni! Ah, l'ospedale di... Di Marlene. Ma ci fanno vedere quando Joel ha fatto il casino. La prospettiva di Ebbe ci fanno vedere. Andiamo. E il padre è una brava persona, ma lei è una... Ora capiremo finalmente perché lei ha fatto quello che ha fatto. Mi chiamo Arlene, raga. È una bambina. Non è una provetta. Cosa credi che io... Mi è chiara questa situazione? E sei disposto a ucciderla? No, sono disposto a sviluppare un vaccino che salvi milioni di persone. Quante luci sono morte per molto meno? È stata una loro scelta. Vuoi la mia opinione? O semplicemente hai già deciso? Sto solo cercando il tuo appoggio. E se fosse Ebbe? Senti, pensa... A ciò per cui abbiamo lottato. A tutti i sacrifici, alle atrocità. Cose che... Avrebbero un senso con questo gesto. Rispondi, stronzo. Se fosse tua figlia cosa faresti? Senti, Marlene... Fallo. Grazie. Però se fosse tua figlia non lo farei, non lo facevi. Vado a dirlo a Joel, perché? Hanno attraversato il paese insieme. Lui deve sapere. Allora buona fortuna. Però anche lui è una stronza, perché è incoerente. Cioè se la figlia non lo faceva sicuro, non ha risposto, regà, dai. Un'altra persona che se ne frega. Uccidiamola per la cura. Dai, regà. Non ce la farete a farmi affezionare sta qua. Ragazzi, comunque Joel ha ucciso il padre di Abby. Ecco perché ha fatto quello che ha fatto. Sicuro. Perché era il dottore. Noi l'abbiamo ucciso il dottore. Ora si spiega. Però ripeto, io l'avrei fatto... L'avrei fatto anch'io, regà. Ellie non si tocca. Mi dispiace. L'avrei fatto anch'io. E' ancora dentro l'edificio. Abby, Abby, non guardare. No, papà! Papà! No! No! Fermi. Non riesco a commuovermi per lei. No, no. Perché ce l'hanno fatta odiare tutto il gioco, ragazzi. E' la nemica di Ellie, lei. Non piango per sta scena. Sappiamo perché Joel ha fatto quello che ha fatto. E' come una figlia per lui. E lui ha perso sua figlia. Non ha voluto replicare la cosa. Cioè, non ha voluto riviverla. Io ripeto che avrei fatto la stessa cosa che ha fatto Joel. Non so voi. Ma io l'avrei fatto. Poi è chiaro. Abby allora ha avuto le sue ragioni per uccidere Joel. Perché lì ha ucciso il padre. Se ci pensate non c'è una via di uscita in sta cosa. Hanno entrambi ragione. Però io sono dalla parte di Ellie. Non me ne frega niente. Perché la storia è costruita per farti odiare Abby. E io la odio. Io sono Ellie in questo momento. E provo le sue stesse cose. Mi hanno ammazzato come se fosse mio padre. E' difficile ragazzi. Ma... Andiamo avanti. Oddio. Madonna mia. Joel ti devi alzare. No. Oh. All'inferno pendejo. Pure. Giuro che ti ammazzo. Wow 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 che fai? Mendo. Piazza pulita. No no no. Ci interessa a lui e basta. Ma è rischioso lasciarli vivi. E che se ne fai? Ecco cosa hanno detto. Ha ragione. Meglio chiudere i conti. Se li uccidiamo diventiamo come lui. Non hanno nessuna colpa. Si guarda la mia faccia. Fanculo la tua faccia. Dovevi sorvegliare il piano di sopra come ti avevo detto. Spostati. Stai indietro. Calmati. Altrimenti. Stai indietro cazzo. Stiamo calmi. Jordan. Vuoi spararli? Basta. Finiamola. Però quella incinta voleva ammazzarci. La stronza. Ma guarda non mi dispiace neanche più per lei. Vaffan bagno. Voleva ucciderci quella lì. Sembrava tanto innocentina. Colpifero. Ma sto qua non l'abbiamo ucciso però. Ho sbaglio. Manny non l'abbiamo ucciso. Ci hanno convocati. Isaac ci vuole al fronte. Cosa? Sul serio? Temo di sì. Infatti raga lui è ancora vivo. Partiamo subito. Certo. Vamonos. Molto spagnolo. Ok. Cazzo il collo. Vabbè ragazzi è un fisico da uomo questa comunque veramente. Per la stanza ieri notte. Di niente. Chi era stavolta? La cuoca? No. La tipa del meteo. È scesa giù dal monte. Ah. La scienziata. Bella. Però è ossessionata dal lavoro. Ha parlato due ore di una tempesta e... Non lo so. Ne è valsa la pena? Oh. Assolutamente. Ora posso morire felice. Dovresti. Non troverai nessuna meglio di lei. Io lo penso ogni volta. I bimbi! Come gli ho detto? Ciao Manny. Confermo ne smentisco. Ah te la fai pure all'insegnante allora. Guarda che c'è qua. Ah no non è lui. Penso che era lui. Quello tipo asiatico lo dà la loro parte. Quello là col cappello che ha ucciso Tommy. Ah che culo che stanno giocando. Pensavo che dicesse a me. Eccolo qua. Oh merda Giorda. Non ti ho visto. Tu vieni con noi al Serevena. Vogliono me e Manny all'avamposto. Che andate a fare al Serevena? Stanno per evacuare l'hotel e la scuola. Recuperiamo provviste e riportiamo tutti alla base. Sul serio? Sì è assurdo che alla fine siamo costretti a fuggire. Non si può ancora dire. Almeno Alia può rientrare prima dallo studio tv. Esatto sì. Devo andare. Lotta per sopravvivere. O per morire in fretta. O per morire in fretta. E' sopravvivere. Bueno. Dobbiamo andare via. Pensato a lui. Va bene. Ci provo. Che si mangia oggi? Burrito. Di nuovo. Ok. Abby. Che stai facendo? Ehi. Teniamo spressata. Mettere spurritos. Eh no. Mettiti in fila. Scusami. Rispetta la fila come tu ti dà. Scusa. Stiamo andando al fronte. Eh dai. Che vergogna. Perché ne hai presi preve? Ridanni me. Ehi. Non preoccuparti. Mel verrà con noi. Manny. Dov'è il tuo zaino? In camera. Perché mi stai facendo questo? Perché vi voglio bene. Credono che il mondo tornerà come io. E sono stanco di queste cazze. Le armi funzionano bene. Lei sa che vengo anch'io. Sicuro? Ed è d'accordo? Sì. Perché il tuo si sembra uno? È solo l'accento. Senti, non fare la paranoica. Secondo me ti diverti a mettermi a disagio? Ma chi è lei? Siamo scambiati due parole dopo Jackson. Dovrei fare finta che non sia successo niente. Certo che no. Dovete parlare e chiarire. Anche lei voleva vendicarsi su Joel. Ma lei non è come noi. Non aveva mai visto niente del genere. Ammazza Iene di continuo. Con Joel è stato diverso. Ricorda, noi siamo soldati. Lei è un medico. Abby, siamo una famiglia. Fallo per me. Ragazzi mi sta una po' sul culo. Ci troverò. Non chiedo altro. Prepara le tue cose, passo a prendere me. Sì. Fai la brava. Crepa. Ah, lo stadio. Avevano letta la cosa dello stadio. Che si erano messi qua lo stadio. Scienziata, eh? Beh, almeno quella è femminile, cara. Figa. Sei un uomo tu. Ci penso più tardi. Madonna, che schifo. Oh. Cage no katana. Shadow sword. Ah, qua c'è lo zaino. Però aspetta. Qua c'è una porta. Non posso andare, ok? Devo prendere per forza lo zaino. Toc, toc. Sei pronta? Sì, quasi. Ciao. Ciao. Non sei esonerata dal servizio? Non proprio. Devi solo fare domanda. Preferisco prendermi utile, se posso. E Owen è d'accordo. Owen non decide per me. Andiamo a prendere Elissa. Ehi. Meno la città. Perché ti hanno richiamato? È solo un cambio di sedia, tranquillo. Quando sei lì, puoi passare da mio padre. Sta... Non lo so. Peggio. Come peggio? Si lamenta di continuo per un dolore ai polsi. Non regge neanche le posate. Forse deve aumentare gli antidolorifici. So che vi hanno trasferiti alla 96. Sì, ma... Mi piace. È piena di famiglie giovani. Siate emozionati? Per il bambino? Vedere tutti quei ragazzini? Sì, mi sto preparando. Tra pianti e strille. Owen sarà impazzito. Non l'ha ancora vista. È fuori in missione con Danny. Danny? Cavolo. Povero lui. Già. Ehi, guarda dentro lo stadio che hanno fatto, queste. Allevamento. Ma quanti cani che hanno? Registro Elis. È dentro a giocare. Grandioso. Abby? La piazza. È un cane Elis. Sì. Ehi, bella. Ehi, cagnolona. Mi ragazza preferita. L'unica che ti sopporta. Non essere gelosa. Andiamo ai camion? Andiamo ai camion. Ehi, ciao Orso. Chi è il più bravo? Sì. Ok, visto che hai chiesto per favore. Prendi la parola. Che belli i cani, raga, però. Infatti mi sono sempre dispiaciuto. Cioè, mi è sempre dispiaciuto ucciderli quando c'hanno dei cani. Però mi sbrano, non è che posso. Ultima volta, eh. Vai. Ah, sì? Non ci avevo fatto caso al nome. Questo è quello che ho ucciso io. L'ultima volta, eh. Giuro. Ma se tutta sera giocavo il cane. Vai. Vai. Dai, basta. Vado adesso. Ebbene, sì. Sporcazzone. Che ci fai in giudato? Cosa peraisi? Viva isolata per quel lavoro. Guarda che a lei piace. Chiedile dei cumulonelli. Lei è... Altro non deve compagliare. Vela. Ti sembra un vantaggio? Io starei volentieri in città. A curare le famiglie. Ciao, papà. Ehi. Mi chiediamo pure l'armeria, no? Mizzica le fugile. Guido io. Tu firma. Grazie. Lotta per sopravvivere. O per morire in fretta. Basta sta cosa. Ben capito. Il nostro motto. Ma che modo dovete dirlo ogni due secondi? Ecco... Eh? Miai, ma da quante armi hanno. Altro che Jackson, che... C'hanno due fucili in croce. Ah, devo fare pratica con... Che dici? Ti va una sfida? Ti perde e pulisce casa. Ah, vuoi rischiare. Più punti con un caricatore? Ci sto, cabron. Tanto ti batto. Alla prossima voglio la tua arma. Sì, perché è merito dell'arma. Ah, dimenticavo. C'è una pila di piatti sporchi da lavare. Fighissimo quel fucile, raga. Uh, oppure puoi ritirare il bucato. Perché non è un fucile come abbiamo con Ellie, tipo da caccia, che devi ricaricare ogni colpo. È proprio un fucile semiautomatico. Pom, 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 pom. Bello. Vai, rifacciamo. Beh, raga. C'è una buona mira. Forza, andiamo. Mi servono altre indizioni. Macca vacca, quanta roba. Sì, sì, mia topolona. Oh, mi sei mancata. Elis sta davanti. Ma lei è in cinto. Le serve un po' d'aria. Così potete parlare. Come sempre. Grazie. Sì, sì, sì. Sì, sì. No, per Isaac non è importante. Stiamo pescando molti sangue. Ragazzi, questo Isaac non l'abbiamo ancora visto però noi, eh. Forse una volta. Non lo vedo da due settimane. Non fa chi accettare nuovi incarichi. Con te ha parlato, ti ha detto nulla. No, no, no. Non l'ho visto in me, se no. Ci siamo andati. Jackson è il suo. Non andrei qui. 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 Sì, non andrei qui. Non andrei qui. Come on, come on, come on! come mad Sì. Viene del cazzo. Quanto manco. Parecchio. Troppo esposto. Forte, andiamo. Controlliamo che qui sia sicuro. E se che ragazzi ci stanno facendo usare Abby per un bel botto di tempo, eh? Ehi Abby, qui c'è l'occorrente per creare una bomba tubo. D'accordo. Forse la più sicura restare fuori. Ah, andiamo. Bomba tubo. Qui è pieno di nascono. Qui è pieno di nascono. Grazie a tutti. 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 È finita? Sì. Via libera. Sparare è molto meglio che ubricarsi e guardare. Che c'è? Niente. Ehi, guardate lassù. C'è una luce, vedete? Può essere un'uscita. Voglio andare a controllare. Bene. Bene. Ma perché ci fanno trovare le pillole pure con... con Abby, scusa? Con Abby, scusa. Cioè possiamo potenziare... Ma non è che adesso che c'è un bel po' di gioco con lei, vero? Siamo seri? Cioè ci fanno addirittura a potenziarla? Minchia, ho sbagliato ragazzi, ho sbagliato! Oh, ma non è che c'è un po' di gioco. Ma scusa, ma... Ma il cane se morde un clicker non si infetta, scusatemi. Scusa. Forse non contagia gli animali? Ah, giusto, può anche non contagia gli animali, è vero. Non ci avevo pensato. Forse contagia solo gli umani. Sì, per forza, perché se il cane mangia un pezzo di infetto... Doveva già morire, cioè, doveva già trasformarsi. Oddio, un blo... un coso lì. Merda. Sono finiti? Sì. Posso dire che è posto del cazzo? Sì. Che posto del cazzo? Andiamo. Andiamo. Manny. Dai. Prima le signore. Un mese in più e non sarei passata. Prego, Abby. Hai detto le signore. Mi piace. Ok. Abby, mi ricorda la serra di tuo padre. Non direi. Qui le piante sono vive. Hai ragione. Sai cosa? Meglio così. Mi serviva per rinsaldare il legato. Già, c'è un 9-3-3. Grazie per il follow. Bro, grazie mille. Benvenuto a bordo. Grazie. 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 Grazie a voi. E mo? Da che parte? Buonasera Alessio E che ha dovuto andare? Qui? No Ah qui L'avamposto è avanti Non vedo iene Ma ci sono Già, muoviamoci Dio Ricordate quando potevamo passare da qui senza preoccuparci delle iene? Hai nostalgia della tregua? Era tutto più facile Anche troppo Ci siamo rilassati E loro hanno impiccato una scuola Questo perché noi avevamo sparato a quei ragazzini Ok, ma quei ragazzi ci hanno attaccato Tu che avresti fatto? Forse non li avrei crivellati di piombo? Io avrei salvato la nostra gente Ma nessuno ragazzi Non è colpa loro Ma neanche nostra Li hanno uccisi loro Ok Dobbiamo superare questa recensione Tagliamo da uno degli edifici Speriamo non vada come l'ultima volta Hai un'idea migliore, Manny? No Era per dire Qualcosa blocca la porta Eh, c'ha i muscoli, dai Ah Manny, va a vedere su Ok Finchia Proprio Lo fa volare È un uomo sta ragazza, raga Cioè È ufficiale Il cavo è impigliato a qualcosa È tiralo giù, no? Perfetto Sali Mel, resta con Alice Io provo ad aprire la porta Cerco un ingresso per voi Ok Sta' attenta Allora? Ancora niente iene Avranno rinunciato? Simpatico No Ottimista È un bel salto Sì Direi di sì Dobbiamo saltare? Scusa, c'è la corda? Usiamola Eh Spacca le gambe Perfetto Ok, Mel Siamo dentro Io sono alla porta Raga, è Hulk sta ragazza C'è Dal dietro sembra John Cena Con i capelli lunghi Wow Guardate qui È un cantiere per barchi Segniamoci questo posto Al comando cercano sempre pezzi di ricambio Oh Ok Ehi, state bene? Sì, si è rotta E adesso? Abby, guarda Un passaggio Manny e Abby Fede, stiamo cercando un modo per salire sul tetto Ok Beh, contenta di essere venuta con noi Sì Ricordami di ringraziare Manny Sono contenta di essere qui Almeno in caso di problemi posso darvi una mano Ehi Perché hai iniziato a evitarmi? Non l'ho fatto Non mi hai più rivolto la parola dopo Jackson Non lo so Forse ero Solo troppo scossa Pensi che Joel non lo meritasse? Meritava anche di peggio Ma Non volevo farne parte Capisco Chi fa queste cose? Non intendevo questo Arriviamo a quel lucernario Allora raga Non ce la faccia Non odiarli questi qua Non Non so voi ma io Li odio con tutto il cuore Questi qua Cioè non è che li odio Ti peggio Li 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 detesto Li Mi piacerebbe solo vedere di morire Quella è già Già morta Questa qua sopra Manca solo quel maledetto barbuto e E sta strunza qua Muscolosa Dove sta andando quella Che c'è una pancia lungo Grossa quanto Pallone da basket Anzi di più Dove vai? Qua c'è anche delle scale Non le ho viste Grazie Oh Tavo da lavoro Ragazzi Un fucile è tanto figo Però Un fucile è tanto figo Mi sa che è molto più veloce di Ellie Comunque sta qua Poi va anche a correre Vabbè Muscolosa come non so cosa Ok Ci avviciniamo al lucernario Vediamo Ah Oddio Mi ricorda un po' Della Stofasuno Sta cosa Sulla barca Devo metterlo Ehi Giusto Mi ricorda la barca di Owen Sta ancora riparando quell'affare Sì Ma dice che dovrebbe finire a giorni A giorni Tutti abbiamo un'ossessione Io e giochi per caro Già E io le mie stupide monete Mi insega che bella barca Manuale Addestramento Regà ma ci stanno facendo usare un botto Debbie Cioè sembra quasi che adesso Sta diventando lei Il protagonista Che diamine Cioè è una lunga fase di gioco Non è Abby Sono confuso Ho detto Debbie Vabbè Abby Abby Mi sono manco accorto Di aver detto Debbie Ok Non c'è più niente Niente qua Ok L'ho detto Vabbè Fucilatemi Aspetta posso usarla questa però E la corda che cacchio serve allora? Niente Anche perché sta cosa qua Ah Ah allora ho fatto giù Ho fatto bene a fare quello che ho fatto con la corda Ok Fin qui ci siamo Aiuto Eh Ok Ah l'ho fatto bene E' un bel salto Soffri di vertigini Soprattutto se guardo giù Emo come scendi Emo come scendi Spaventata Non sono coraggiosa come pensi Ma dai Per esempio Non potrei mai operare come te Avrei troppa paura di sbagliare Anch'io vado nel panico Cosa credi? Per quel che vale Mio padre ti considerava la sua allieva migliore Davvero? Però Hai sempre detto che ero un idiota Andiamo Ah lì c'è una scalona L'avevo visto Alice Bella cucciolona Che ne avete messo di tempo? Calma piatta qui? Sì Non mi piace Beh Siamo quasi all'avamposto Cavolo Quando arriviamo a casa Mi piazzo sul divano Guardo un film E bevo fino a svenire Ah sì? Cosa bevi? Che film guardi? Domande difficili Il film è quello con Come si chiama? La ragazza che cavalca il lupo Ah bellissimo Ed avere Il mio mescal dell'ultima festa Vuoi dire Il nostro mescal? Sì Sì Te ne lascio un po' Anch'io verrei volentieri qualcosa Ma sono troppo inzita Regà non mi fa Ok No Non mi faceva selezionare le armi Proprio che c'era il dialogo Allora Marta Con la fine della tregua Incontrarci qui è diventato troppo rischioso Le iene inviaderanno quest'area come un branco di scaravaggi Ho portato via le mie cose E ho chiuso le tue armi sotto chiave Nel caso ti servissero quando arrivi Quando Credo che le iene non le toccheranno Perché la cassaforte fa troppo vecchio mondo per loro Stupidi schizzati Stai attenta Ci vediamo presto Polla C'è una cassaforte quindi Indiana Non c'è una cassaforte O meglio C'è ma Qua c'è una data Quindi forse la combinazione sarà 08 15 12 Ah mo puoi scrivermi in chat sta cosa qua Scrivi 08 15 12 Così almeno me lo ricordo dopo se c'è una Cioè proviamo sto codice se c'è Ok grazie Eh no eh ma voglio trovarla la cassaforte Se hai detto che c'è una cassaforte c'è una cassaforte Anche perché ha parlato di un'arma Dentro la cassaforte Quindi devo per forza Prenderla Lì c'è una porta Però mi sa che No infatti è dietro Magari è piovanti eh La cassaforte però Mi sembra strano Ok Eh non sembra esserci più niente Raga quindi Proviamo ad andare avanti Oddio forse qua Potrebbe esserci una cassa d'armi Mi piace l'idea Eh potrebbe esserci una cassa d'armi Qua dentro allora No 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 aspetta che non vado avanti a sinistra Allora devo prima Trovare un mo Trovare un modo per entrare qua dentro Sicuro è qua dentro la cassaforte Di sicuro Ecco infatti Vedete Eccola lì Allora 08 15 12 No Allora 0 15 08 12 No 08 2012 15 2012 No Allora Non è quella Aspetta un attimo Magari c'è una nota Che non abbiamo visto qua Quanta roba Dai non c'è niente Sei serio Eccola ma devo inventare la cassaforte La Cioè la Il codice Scusate un attimo eh A parte che qua si può Crea pugnali Crea due pugnali con cui eliminare Senzatamente gran parte dei nemici Puoi usarli anche per liberarti Quando un clicker ti afferra Ah la meccanica del primo della sto fase Allora Scusate un attimo Eccola Con la fine della tregua Eccola Per tutto via delle mie cose Ho chiuso le tue armi sotto chiave Nel caso ti servissero quando arrivi Credo che le iene non lo toccheranno Perché sono cassaforte A proprio vecchio sfondo Per loro Sono stupido di schizzare Sto ancora usando il numero fortunato Come combinazione Il numero fortunato Il numero fortunato Ci deve essere un indizio In quella roulotte allora Numero fortunato Aspettate un attimo eh Per forza ci deve essere un indizio qua dentro Numero fortunato Numero fortunato Guarda qua 17 38 07 17 38 07 17 38 07 17 38 07 17 17 38 07 37 07 Ha 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 Uuuuuh Uuuuh Uuuuh lo shorty Niente ma Quello del piume della sua fase Cioè più o meno Figo Questa è tipo un fucile a pompa pistola Bello Pistola da caccia Sì è un incrocio tra una magnum e un fucile a pompa Diciamo Bello Solo un colpo già però Un colpo alla volta Però sarà potentissima Va bene Possiamo andare Ragazzi Di qua Ok Seguiamo i binari Portano dritti alla strada per l'avampusto Non mi piace Lo so Occhi aperti Scavalchiamo il muro Non vedo come Porca vacca No Donato tasto Vabbè Silenziatore non abbiamo Quindi Siamo troppo lontani però Presa Eh ragazzo Fucile è una bestia comunque Perché è precisissimo Bastard Maledetti Come avete usato mandarmi una Oddio È andata A posto Ragazzi Perché tanto Abby Non è una La stealth Cioè lei fa il culo e basta Lei spara È una solda È un soldato Come ha detto lei Quindi Che 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 E' un'imboscata! Già, ma ha ancora questa. Gia... Porca miseria! E ragazzi, non ha più corti. E' un po' più corti. Stupido. Ragazzi, qua su. Forza, Bella. E' un po' più corti. 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 Ricarica sta pistola, imbecille! E' un po' più corti. E' un po' più corti. Sì, ma cazzo! Ho capito, ragazzi, sono 70.000. E' un po' più corti. 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 Bordello. Ehi, fammi vedere lei. Possiamo tornare a Ellie, per favore? Raga ma c'è in culo questa Non È inutile Anche perché eravamo in ostaggio A Abby Quindi Ora un attimo C'era Dina incinta Nell'altra stanza Ho detto tutto Lo so ci siamo quasi Apri il cancello Devono passare Man Cosa? La schiena Stringi più forte che puoi ok? Scusate raga Orca merda Non me ne ero accorta Ehi Sono in due Cioè perché ci stavano facendo vedere Sta cosa di Abby? Ha perso un bel po' di sangue Non dovrebbe uscire Andrà bene Andrà tutto bene Ehi Che abbiamo qui? Su Lei è Alice Su Alice Da brava Grazie Questa nuova recluta Non mi fido Grazie ancora gente Ehi Manny Aspetta Voi siete pezzi grossi Sapete che succede Perché lo chiedi? Siamo fermi qui da tre giorni Ma nessuno ci dice niente Ringraziateci voi per questa botta di vita Dai Ce lo dovete Potete informarvi Ok Ma prima le informatica Ci vediamo dopo Ok Perfetto Grazie Ci vediamo Ciao Ma che succede? Ah Non lo so Ehi raga Quanti sono sti lupi comunque Porca miseria Un esercito veramente Niente Cioè Alla fine sono una specie di nuove luci Solo più stronzi Cioè Cerchiamo Isaac Prima dobbiamo pensare a me Non ho mai visto nessuno per ora Tu? Ah Stiamo cercando Isaac Finalmente lo vedremo Ehi amico Abby Per una volta qualcuno ti ha salvato il culo Sì Cioè Una volta No Non posso fare niente Vabbè Abby Vieni qui Mi conoscono tutti Una cosa incredibile Cioè La conoscono tutti Sì So dell'imboscata Dove sta? Era circa Qui Vicino ai magazzini Stanno superando il perimetro Sai dove è Isaac? Era qui cinque minuti fa Ok Grazie Cerco in giro Scusate 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 Ah, sta qua è quella che abbiamo fatto fuori con la PSP, vi ricordate? Mabu! Mabu! Maledetti videogiochi! Oii, attenta come parli! Non stai sul culo, non farti stare sul culo ancora di più! Ah, è grave, Doc! Calma, ho visto di peggio. Già. Senti, così fa male. No. Così, invece? Ehi, amico, va meglio? Beh, grazie agli antidolorifici, sì, sì. Tieni duro. Come va? Almeno ho ancora qualche rito. Te ne bastano tre. Giusto? E... Accidenti! Lo so, è successo troppo in freddo. Ma poteva andare peggio. Ah, parli del diavolo. Ragazzi. Come stai, Amel? Ancora qualche punto e sarò come nuovo. Dovete dire a questa testona di starsene buona. Ehi, Amel. Sta buona. Contaci. Ehi, mi servono delle braccia forti. Vi andrebbe di darmi una mano? Certo. Non scappare. Vi aspetterò qui. Buona buona. Nora, sei rilassata un po'? A breve mi trasferisco in all'ospedale Ovest. E non posso lasciare niente. Mamma mia, questo gruppo di Scream non smettono mai di scrivere. Una cosa incredibile. Come stanno? Davvero? Il bambino ha valori sopra la media. Ma... Sono ottimista. Qualcuno deve avvertire Owen. Lui vorrebbe essere qui. Sì. Devo farvi vedere una cosa. Cosa c'è? Seguitemi. Oddio. Oddio. Sono nostri uomini? Sì. E ne stiamo aspettando altri. Non dirlo a Mel. Chiaro? Nora. Non... Non ancora. Vieni. Oh Gesù. Chi c'è in quel sacco? Eh. O Lea, o... Oh merda. È Danny. Perché noi nel frattempo eravamo già assiattoli a vendicarci, ragazzi. non lo so. Qualche giorno fa hanno... hanno avvistato delle iene vicino al porto. Danny e Owen sono usciti a vedere. E oggi le guardie hanno trovato Danny vicino alla recinzione. è tornato fino a qui... con un proiettile nello stomaco. Pincia siene. I costo è puta. Isaac gli ha parlato finché era cosciente. Ma pare che nessuna unità tornerà da quelle parti. Owen, invece... Hai chiesto qualcosa ad Isaac? Sì, ci ho provato. Ma mi ha detto che... che devo stare zitta. mi ha fulminata con lo sguardo. E quindi mi raccomando... non dite niente. Owen è una in gamba. Di sicuro sta bene. Dov'è Isaac? Sarò discreta. A quanto ne so io, è... Beh, è negli alloggi. Vediamo un posto Isaac, chi è? Fatemi avere notizie. Certo. Cazzo. Perché Isaac non ha inviato una squadra a cercare Owen? Forse l'ha mandata senza dirlo a Nora. Lo spero, cazzo. Andiamo da Isaac, allora. Eh sì, è Nora. L'abbiamo uccisa ieri, sì. Sono curioso di vedere com'è sto Isaac. Ecco, sarebbe il capo dei lupi, ragazzi. Beh, chi c'è? Ehi, ragazzi. Vi va una partita? Ehm, non posso. Cerco Isaac. Come vuoi, fenomeno. Il prezzo per essere il miglior. Ci vediamo. Ah, Isaac, dopo tre giorni finalmente ho ricavato qualcosa dal numero 74. Se quello che dice è vero la riva su sud, potrebbe essere la soluzione migliore per noi. Ho lasciato una mappa nel tuo appartamento. Per come la vedo io dovremmo inviare una squadra di ricognitori il prima possibile. In ogni caso credo che nasconda ancora qualcosa. Dimmi solo quando... Qualche giorno. Dammi solo qualche giorno. Sorgente Foster. Come odio questo posto. Cazzo. C'è un odore schifoso. La prigione questa. Dopo stamattina... Avrei un paio di paroline per loro. Ti capisco. Ah, sono iene queste. No. 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 Eh, Yabby. Dobbiamo salire. C'è Isaac dentro. Oh. Ne ha ancora per molto. Ha detto di avvisare. Al vostro arrivo. Venite. Ci siamo, raga. Vediamo sto stranzi in faccia. Ma chi è quell'altro? Il prigioniero? Sono Abbie Manny. Mi sa che è una iena. Oh dio, ma è nudo quello! Non deve addormentarsi. Signor sì. Oh Gesù. Non me lo immaginavo per niente così, ragazzi. Eccolo finalmente, il capo di sti maledetti. È lui. Samuel Jackson con la pancia. Non siamo finiti nei guai. Non abbiamo subito perdite. Solo qualche ferito minore. Agli altri è andata peggio. Vorrei sentirlo più spesso. Mai visto la base così piena? Abbiamo ancora un giorno. Sto aspettando altre unità. Che succede, capo? Tutte queste scarmaglie. Non si può continuare così. E quindi... Cosa? Pensavo ad un'altra tregua. Ma quanto tempo passerebbe prima che qualche coglione nostro loro mandi tutto a puttane? No. Devono essere tutti. Signore, abbiamo provato ad attaccare... Non in questo modo. E non con tutti. C'è una tempesta a pochi giorni. Potrebbe coprire l'avanzata. Voi due guiderete l'avanguardia. Raccogliete le squadre. State pronti. Voglio Owen. Quando tornano lui e Danny? Chi ha parlato? Nora? Nessun segreto per nessuno a Salt Lake. Eh? Sgamati subito. Owen, sta bene? Per quanto ne so. Ma... Perché non hai mandato una squadra a cercarlo? Ha sparato a Danny. Per proteggere una Iena, a quanto pare. Stronzate. Chiedo scusa. Non è da Owen. Ti sbagli. Stai insinuando che in punto di morte Danny mi avrebbe mentito. Signore... Se questa voce gira... Owen è morto. La gente farà gara... Per sparargli a vista. E allora smettetela di far girare la voce. Voglio cercarlo. Lo riporto qui, andremo in fondo alla... Dicevi che manca un po' alla testa. No. Abbiamo soltanto una possibilità. Viene prima del bene di tutti. Di sicuro prima di Owen. Se si fa vedere, d'accordo. Gli do il beneficio del dubbio. Andremo in fondo alla questione. Mi servi, Abby. Sì. Chiaro. Sì. Chiaro. Bene. Studia il piano e ripassa la lista. Prendi da mangiare. Poi parliamo. Quindi era Owen che ha aiutato quella iena. Che c'era nel documento. Due episodi fa, mi pare. Owen non può aver ucciso Danny per una iena. Giusto? Cosa? No. Abby. No. Domattina sarò qui. Coprimi fino ad allora. Isaac ti farà a pezzi. Non prima dell'assalto. Hai sentito, gli servo. Se Owen è là fuori, come diavolo pensi di trovarlo? So dov'è diretto. L'acquario. Quindi lei ha trovato Owen e Mel morti? Sì. Sì. Tre anni prima. Giuro che ti uccido. Che c'è? Dico sul serio, smettila. Ok. Lo trombano. È bello. Bellissimo. Avanti. Siamo arrivati fin qui e tu te la fai sotto a soli due passi dalla meta. Sì. Sì, contava arrivare su, quindi... Ti spiego come faremo. Adesso porti qui le tue chiappe, ti siedi sul bordo, oppure ti metti al posto dei bambini, e poi ti godi la vista. C'è l'allenamento. Davvero? Se invece lo saltassimo solo stasera? No. Beh, parliamone. Si è fatto tardi. Già. Ok. No. No. Non farlo, è troppo alto. Oh mio Dio. Sai... Non posso continuare a vivere così, Abby. Owen, sul serio, giuro che ti lascio. Owen. Ti ho sempre amata. No! Owen! Eh... No! 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 No... No. No! 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 Abbi! Sono qui, brutto cretino. Ci sei tuffata? Senza avvisarmi. Pensavo fossi affogato. E volevi venire a salvarmi? No. Volevo impedirti di risalire. Ho trovato una cosa che ti piacerà. Cosa? Credo che dovrai seguirmi se vuoi scoprirla. Raga, ma solo io non riesco a emozionarmi usando sta qua? Voi vi state emozionati? Cioè, vi regala emozioni vedere se scena di lei? Raga, io sono crude... Dopo aver visto ciò che ha fatto a Giollo, non ce la faccio. Eh, fatti, ma... Cioè, io voglio tornare il prima possibile con Ellie. Cioè, raga, sono... Sarà un'oretta piena che stiamo usando lei, eh? Che figo... Quando l'acquario ancora era... E questo cos'è? Non lo so. Vabbè, dai, baciatele, abbiamo capito. Sì, cazzo. Adoro, raga, l'acqua. Guardate l'acqua. Sì, cazzo. Lo zoo per i pesci, si chiama acquario. Idiota. Non hanno le macchie, sono marroni. Quelli sono leoni marini. No, no, è impossibile. Ma io... L'ho vista. Con i miei occhi. Non avevo ancora il fisico che ha adesso. Questo cosa sarebbe? Direi che sembra una specie di teatro, ma... Per i pesci. Cosa... Cosa sei, un gallo? Beh, sono un lupo, è il mio lulato. Sei un cretino. La barca era parte dello spettacolo. No, qualcuno ha trasformato questo posto in una specie di mona. Ragazzi, mi manca Ellie. Sì, da me... Oddio. Vestiti da bambino. Qui c'era una famiglia. Guarda questi disegni. Che sarà successo? Sono diventati lupi? Sì, o li hanno ammazzati le iene. Viva l'ottimismo. Ok, basta con questa barca. Finiamo con lo zoo per pesci? C'è dell'altro da vedere. Certo. Andiamo. Cioè, ci stanno facendo rivivere una cosa simile a quella di Ellie e Joel al museo dei dinosauri però con Abby. però, beh, è un po' diverso perché lei è col ragazzo invece Ellie e Joel erano padre e figlia, diciamo. Proprio non capisco perché il gioco cerca di farci affezionare a sta stronza. Davvero, non capisco il motivo. Ce la fai a passare da lì? Cioè, ok, magari un messaggio che tutti possono avere le proprie ragioni ma non me ne frega niente. Voglio che muoia subito, adesso. E non di infarto o una... cioè, una morte lente e dolorosa deve essere. Però vedi, funziona il gioco. Perché comunque anche te ti fa diventare cattivo come Ellie. Lei è tutta buona, è tenera ma è portata ad uccidere tutti. Diventare come loro. E ti lo fa vivere in prima persona sta cosa. Che figata, raga. A me i colori dell'acqua mi hanno sempre fatto impazzire. Non a caso sono acquario di segnato di decale, quindi. Vedi dei pesci? Imbe... Vabbè. Vabbè, vabbè. Ci rinuncio. Giustamente non poteva avere un ragazzo decente, sta scema. Sì, la musichetta. Ma non mi emoziono. Cioè, è bella la balena e tutto, ma... Il posto è bello, ma... Sì, due sono due stronzi. Questo posto è incredibile. Non mi fate affezionare. Non ce la farete mai. Quanto è spesso questo? Una vasca nel pavimento. Oddio, che figata. Cioè, immaginarlo, pieno di gente. Con i bambini che corrono, le risate. È un altro mongo, eh? Sì, ma mo' basta. Intendi... Intendi a loro? Possiamo andare avanti con la trama? Non me ne frega niente di sta scema. No, no. Madonna mia. Che poi ci hanno fatto stare là sulle spine, perché... C'era Ellie contro Abby. Ragazzi, non so perché. Non mi viene di chiamarla Abby. Mi viene in mente Debbie. Ma perché non ho mai sentito il nome Abby. Secondo me è un diminutivo, infatti. Non può chiamarsi Abby. Cioè, è tipo un soprannome, secondo me. Poi boh. Che non ho mai sentito Abby, io. Quindi? Regà. The Open Ocean Experience. Max Peace. Casa di Max. Io cosa ho fatto, io? Oddio, che figata la bocca a squalo, cos'è. Dobbiamo tornare qui con gli altri. Giusto, anche loro devono infrangere le regole. Perché? Non ne vale la pena. Prima vediamo quanti problemi ci aspettano al ritorno. Ah. Ti piace? Sì. Oddio. 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 Ma perché? Perché dico una parola e poi subito dopo? Sembra un veggente. Dico le stesse parole che dicono loro. Tipo un secondo prima. Questo è il nostro capitano. Una mummia, bro. Ah, ma questo è fra la parte delle iene. C'è il simbolo delle iene sotto. Papà, Max deve andarsene da qui. Non può passare la vita chiusa in questo palazzo putrescente. Diventerebbe un debole come te. Quando i soldati hanno ucciso mamma, sei rimasto immobile come un codardo. Che esempio potresti dargli? Avresti dovuto resistere. Vendicarti per come l'hanno ridotta. Voglio che Max sappia cosa significa lottare per costruirsi una vita degna di questo nome. Questo mondo è spietato. Ma sta a noi cambiarlo. Solo da deboli possiamo trovare la forza. La nostra vera forza. Forse torneremo un giorno. E in quel caso, spero di non trovarti ancora seduto sulla tua poltrona del cazzo. E invece sì, è morto proprio sulla poltrona. I figli sono scappati con le iene. Gesù. Beh. Se non altro, abbiamo le chiavi. Sei tremendo. È uno scheletro, a lui non servono. Sì, ma era una persona prima. Io non riesco che cosa spinga la gente a unirsi alle iene. Perché no? Perché sono una setta di squilibrati, semplice. Nelle ZQ le luci erano considerate terroristi. Fanatici. Eravamo ingenui, ma non... Fanatici. Facevamo saltare gli avamposti. Uccidevamo i soldati. Non è lo stesso. Era per dire... Non dire queste cazzate allo stadio, ok? Ok, ok. Scherzo. Ma vedi che sono persone di merda, raga? Cioè, lo scheletro... È tanto uno scheletro, non gli serve più. Cioè, ma un minimo di rispetto. Era una persona prima, eh? Vabbè. Dice che è la famiglia della barca. Penso di sì, sì. Ragazzi, se mai troverete questo messaggio, sapete che non vi viasimo. Quei serafiti sanno essere convincenti. Se credete di poter vivere meglio con loro, vi capisco perfettamente. Ci sono acque provviste nella barca. Prendete il largo e scappate da questo posto. So di essere stato troppo duro con voi, ma cercavo solo di proteggervi. Spero che possiate capirlo. Non sono riuscito a trovare gli antibiotici. Vi voglio bene. Ricky, tieni al sicuro Max. Come sempre. Lì lo devi. Pa, pa. Cioè, mi fa molto più emozionare la storia di sta famiglia qua che... Che lei, vedere con lei, con il ragazzo. La odio lei. Cioè, è una cosa che mi ha fatto... Cioè, è la storia che mi ha portato a odiarla. Non perché la odio a prescindere. Quello che ha fatto. Quindi... Anche perché quello che ha fatto Joel l'avrei fatto anch'io. Quindi non... Come dire, non... Non si scampa. Vuoi provare le chiavi? Ah, sì. Questa? No. Allora... Trovate. Cavolo. Ci avranno messo un secolo. Effetto mare profondo. Non vorrei calarti là sotto. Andiamo. Owen. Soffre di brutto le vertigini, ebbia. Sei brana. Ehi, guarda questi. Vorrei conoscere il ragazzino. Beh... È una iena. Forse l'ha incontrato. Ah, cavolo. Spero di no. Bel fortino, Max. Un vero capolavoro. Wow. Che figa. Vieni, entra. Che figata. Bello. Ragazzi, immaginatevi avere una casa, tutta così. Wow. Sott'acqua. Con le... Con le... Fighissimo. Che bello. Ecco, questo mi fa emozionare. Vedere gli animali. In un mondo così. Che carina la foca. Te l'ho detto. Hanno le macchie. Sì, certo. Cioè, in realtà non è una foca. Attenzione. Limone duro. E non solo, forse. Vado troppo veloce. No. È per questo? È per questo, vero? Ti disgusta, puoi dirlo? Sì. Avanti, Abby. Scusami. Non chiedere scusa. Parla con me. Sì. Io lo so che non abbiamo altre piste. Ma... Ma Joel è ancora là fuori, credimi. Oh, Gesù, lo so. Che devo fare? Torniamo indietro. Abbiamo l'addestramento. Ecco perché è messo incinta l'altra. Non le la dava a lei. Va avanti tu. E invece tu? Io resto ancora un po' qui con le fuoche. Scusami. Senti, te l'ho detto. Non chiedere scusa. Scusami. Scusami. Ok, abbiamo un po' capito la storia tra lei e Owen. Infatti non capivo perché lui l'avesse tradita con quell'altra. Ora l'abbiamo capito, quindi... Ma ancora? Oh, ma... Cosa è modo tutto il gioco con questa qua? Vero amicizie. Mi stai aiutando a scappare. Lo apprezzo. Come pensi di raggiungere la quale? Con la super strada? No, troppe pattuglie. Sarebbe un suicidio. Non ho scelta. L'acquario è ovest. Basta seguire il sole. Io vengo con te. L'ho fatto altre volte. Ci sono troppe iene in questa zona. Manny, ti prego. D'accordo. Sei tu l'esperta. Però scusate, se lui è andato con lei adesso... E noi stiamo andando all'acquario dove ci sono i cadaveri di Mel e Owen... Che abbiamo ucciso noi con Ellie. Vuol dire che lei quando ci ha trovato al teatro non era sola. C'è anche questo. Ricordi logica? Sì, e tutto il resto. Sei un amico. Andiamo, Abby. Al mio che non muoio adesso. Sì, e non regole motivi. Sì, ma ti prego non farmi arrivare fino all'acquario con sta qua. Un altro viaggio. Forza. Ragazzi, talmente la detesto. Non voglio usarla. È una cosa incredibile. Ah, ok, non viene lui. Non fargli troppo male. Ci proverò. Sul serio. Fa' attenzione. Da dopo. Dobbiamo arrivare all'acquario con lei, va bene. Seguire il sole. Seguiamo il sole. Vabbè. Vabbè. Dove esplorare anche con lei purtroppo perché vaga, siccome posso potenziarla, devo farlo. Quindi, anche perché sennò non ci arriviamo all'acquario per andare avanti. Quindi, servono provviste qualcosa qua, sempre. Però lei ha meno cose di Ellie, perché Ellie ha la furtività, il coso, eh. Invece lei c'è solo tre rami. Eh, morte, sicuro. No, 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 no. No, 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 no. Mizz, è che bello alto, però. C'è qualcuno. Sì, è un infetto. Nord Dakota. E lì c'ha le carte, lei colleziona le monete. Vabbè. Sono morto, regà. Che infarto, porca miseria. Oddio. Cominciamo bene. Perchè. Perchè. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh no, ci sono i... Si, posso guidarvi giù da un ponte? Abbiamo i bastardi davanti casa. No. 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 Sì 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 Cassaforte Sì 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 Dove cacchio vado a prendere la password ma? Non so che sono dei menu però magari secondo me è uno di questi 120 uno di questi due uno due tre quattro no sono cinque cifre non può essere Sono sei cifre vedono sette una combinazione ricordo No sono sei infatti Niente dobbiamo trovarla E ora? No Grazie. Ma sono già passato da qua? Eh sì. Ah, di qua. Oh, che figata! È tipo China Town questa, allora. La porta della Marti. La trego è infinita, ma voi continuate a tornare. Oh, Gesù. Oracolo. Forse il mio desiderio è realizzabile, ma devo comunque sperimentare, esprimerlo. Dona ai lupi il tuo discernimento, la tua saggezza e il tuo amore. Così come possono abbandonare la via dell'egoismo e deporre le armi. Ti supplico, porta la pace in questo mondo. Ha funzionato sta preghiera? Facile, resta sulla tua isola. Oracolo, dono una forza e prospedità ai tuoi figli. Aiutici a purificare il mondo della malattia per spalancare le porte. È un nuovo inizio. Forse hai esagerato. Qualcuno ha parecchia voglia. Cioè, hanno fatto tipo un camion, tipo chiesa. Santuario. Aspetta ragazzi che... Abbasso un po' la videocamera, perché almeno... Abbasso un po'. Spavoranzarmi. Ah. Ok. Quanti biglietti? Il codice di quella cassaforte no, eh? Ok, se non altro era una richiesta pratica. Il sole sta calando. Il sole è un po' di più. Grazie. 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 Oh, fondina. Ok, da che parte adesso? Ok, da qua. Ok, da qua. Sono iene questi. Grazie. Ma sta gente è fuori di testa, ragazzi. C'è anche un lupo qui. Ma se c'è il muro. Oh, porca di quella miseria, ma crepa, va. Bene, non ho neanche le cure io. Non ho neanche le cure io. Che mira di merda. Medikit. Non ho male. Oh, merda. Quanti sono. Oh, merda. Oh, merda. Sì, sì, fischia, fischia, che la mamma ha fatto gli gnocchi. vuole solo confonderci. Vuole solo confonderci, allerta. Oh, merda. Oh, merda. Oh, merda. Oh, merda. Oh, merda. Oh, merda. Tis sia, te. questo figlio di mignotta va bene guardalo là dov'è preso colpo in testa stronzo ok posso passare per questo edificio ok 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 di peggio è lì incazzata vabbè peggio di questi qua no però non Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tommy, Jesse e Ellie sono ancora lì, Ellie li segue. Oh, c'è? 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 C'è? Oh, c'è? Oh, c'è? Oh, c'è? Oh, c'è? Quindi quella era una persona comune che ha fatto qualcosa e altri l'hanno seguito e ha creato un culto. Oh Gesù. Non servirà allo scopo. Senti Magut, non dovremmo cercare le fuggiate. Emily partirà per i boschi dopo il tramonto. Le troverà lei. Bene. L'oracolo saprà punire quelli apostate. Spero che servano da esempio. Faccio vedere io l'oracolo. Toh. Maledizione. È imboscata. Vi è piaciuto l'oracolo? Vi è piaciuto l'oracolo. No? No? No. Gatto! Don't! No, no, no. 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 Ce n'è uno qua vicino ragazzi però non capisco dove. No, no, no. No, 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 no. Ben, Ben. Ben. Oh cazzo Raga ma quanti cacchio sono? Raga ma quanti? Oh 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 Questo non me l'aspettavo Ecco perché forse lei arriva tardi Perché è stata rapita quattro mesi prima Ragazzi stanno giocando con Abby comunque adesso e basta Cioè Allora che c'è? Abbiamo ordini? Quasi Quasi? Va bene senti possiamo lasciar perdere Isaac per un minuto Owen Da quanto non venivi qui? Guardati intorno Ammira Un attimo Alice è qui? È fuori con Mel Come cacchio va? Ah tipo Vabbè Vabbè Hai un cuore tenero Che pessima memoria Selettiva direi Quindi Cosa hai fatto? Ma sai Ho tagliato i rampicanti Ridipinto le pareti Hai iniziato a tirare con l'arco Non direi Molto Tropicale Dove l'hai trovato? Ricordi il negozio di articoli da festa? Non è stato per niente facile portarlo fino a qui Abbi Torna giù Perché? Nascondi qualcosa? No Ma il piano di sotto può regalarti altre sorprese Andiamo Ok Oh my god Ora capisco il bersaglio Beh sai Io e Mel ci siamo inventati una specie di sfida Ma Dubito che possa piacerti È Piuttosto complicata Mi vuoi provocare? Ha funzionato Cosa faccio? Ok Vedi i bersagli? Sì Colpiscine più che puoi nel tempo limite Se vinco Voglio il mio nome in vista Ci sto Uno in meno Sono fiero di te Ah buon per te Ah ah ci senti Cinque Siamo a metà A e B Eh dove sono gli altri però Ancora due Tranquilla Sento Quasi un moto d'orgoglio Com'è l'altro? Mancano dieci secondi? Eh ho capito Cinque Quattro Tre Due Sono finite Uno Ah lì cacchio Ce l'ho fatta Ha Al primo colpo Che ne dici ora? Sì Grande Sei piena di talenti Sta zitto e scrivi il mio nome Lo farò Dopo Non vuoi che Mel sappia che sono stata qui? No Non le importa Mella Allora segnami sulla lavagna Owen Ok Calmati Ok Voglio farti vedere un'altra cosa Torno fio senza arrivare Sì È il cadavere del capitano L'ho visto La volta scorsa Gli hai messo il cappello da Babbo Natale Cosa? No Cioè non è male come idea Ma come? È morto Andiamo Cos'è combinato? Dopo di te Wow complimenti Mizzera Che lusso Non hai ancora visto niente Accomodati Goditi il panorama Prendi Prendi Assaggia Allora Il panorama è bello Grazie tante Per lei porci Volevi una bugia? Sì Sì Ovviamente Vorrei Qualcuno che mi ami tanto Da farmi un calzino Ma tu non te lo meriti Cosa è il calzino O qualcuno che mi ami? Tutte e due Che sei così di buon umore? Chi? Io? Salta all'addestramento oggi Happy Al chiaro di luna Ho trovato il fratello di Joel Oh Gesù Vive in una colonia in Wyoming Come lo sai? Alle mura hanno trovato una squadra di luci che lo conosceva Non aveva mollato tutto dieci anni fa Sì Quindi L'hanno mai più visto da allora? È una pista Devo provare Ok questa è prima Ok ma sei bene che se anche fossi lì E lo incontrassi Potrebbe non sapere dov'è Joel Giusto? L'hai detto agli altri? Sono tutti d'accordo Mel compresa Possiamo partire in settimana Isaac non darà il permesso Sono troppe persone L'ha già dato Cazzate Chi crede più di Isaac nella giustizia? E sa cosa ha fatto Joel? Bene quindi c'entra pure il capo di sti strozzi Ha dato lui l'ordine Cioè il... Bene O insieme o insieme o niente Giusto? Certo E' stato un po' di sti strozzi E' stato un po' di sti strozzi Oh, merda. L'han catturata. Mamma, ragà, la grafica. Puzzolandia. Oddio, oddio. Oddio, la capa, forse. Il capo, o la capa. Ragazzi, qua sono malati, comunque. Oh, Gesù. Merda. Dov'è l'altra apostata? Spezzatele le ali. Cosa vuol dire esattamente spezzatele le ali? Oddio, no, ti prego. Oh. Oh. No! Porca miseria! Arrivano i deboli. Tirala giù. È una di loro... Magari è andata di culo Abby, eh. Molto di culo. Figa sta scena comunque, cioè... come resa. Questi due sono dei traditori... ...delle iene. Cioè, erano iene, ma... Occhi aperti. Questa. Sta ucci. Molto di un po' di un po' di un po' di un po' di un po'. No, no! No, no, no! No! Cioè, le han tolto le armi, tutto? Dio, ragazzi, ho dietro, ragazzi, ho dietro! Mamma mia! No! 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 Questo era l'ultimo. Stasi bene? Sì, muoviamoci prima che ne arrivino altri. Ogni direzione va bene. Sappiamo dove stiamo andando. La sede di voi. Ma il bambino? Ragazzi, il bambino dov'è? Ma togliti? Regà, ma che ca... Ah, perché si era buggato il bambino da qualche parte. No! 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 E' recente. Non c'è un'altra strada. Se ci fosse, pensi che saremmo qui. Andiamo, letto! Apri! Spostati! Forza! Forza! Ah! Ah, merda! Porca trota Perca trota No, aspetta! Amato! Che gli ha aperto la faccia! Come va il braccio? Per ora resisto. Ok. Prendete tutto ciò che trovate. Sì, questa... ...questa sequenza mi sta piacendo. Ci servono provviste. Finché siamo imboscati qui, il doppio senso era voluto. Cos'è il doppio senso? Mai visto le liene ammazzarsi tra loro. Serafiti. Che diavolo hai fatto? Ho rasato la testa. Risparmiami i dettagli. Preferisco non sapere. Allora, 101 pezzi. Ho ho! Figo. 51... No, aspetta! Ok, non posso. Ok, non posso. Ok. No, aspetta! Ho. Ok, faccio. Come va! Ho. Ho. Ok. Ok. Grazie. 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 Spavento, bambino. Oddio. Grazie. 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 Siamo vicini alla costa. Ancora uno. Devoli, seguitemi! Grazie. A loro amatoosa. Oddio. Guardaro per queste varieva. S Constanti. Grazie. Inmane! ersi di sindone. Persecuito. Porca Grazie bambino Grazie a tutti Grazie a tutti Mi faccio passare Voi aprite il cancello Va bene Forza Tocca a te Occhio al braccio Ma che sa che male quella quando gli ha spaccato il braccio Cazzo Fai presto Tocca a te Sono andati via? Che merda Che merda Oh, cappucca. No vabbè, ma di cosa stai dicendo. No vabbè. No vabbè. No vabbè. No vabbè. No vabbè. No vabbè. Mamma mia. No vabbè. Ecco le altre. Non mi... Solo un minuto. Tieniti stretta. Ok. Ok. Pensavo se ne fossero andati veramente questi due. Il braccio. Lo so. Pensai a respirare. Inspira, espira. Con calma. Inspira. Espira. Proviamo le porte. Controlliamo se ci sono infetti. Non si apre. Prova le altre. Per me le mani. Ehi. Sono rimane. No! No. No! 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 Siamo prima che ci scopra. Chiudi. Vieni, aiutami. Come fai a sistemarlo? Sarò rotto in 30.000 punti. Ce le pare frantumate? Che è male, ragazzi. Sento così il dolore. Che fa la stecca? Ok. Tipo gesso, però... Improvvisato. Come ti chiami? È bene. Grazie di avermi liberata. Questa zona è pericolosa. Come quest'è domani. Dovete andarmene da qui. Ce la caveremo. Sì. E' vero. Ok, Owen. L'acquario è qui. Andiamo. Si lascia niente. Andiamo. Andiamo. Figo. Dient'ato nero. Oh, c'è un potenziamento l'altra fondina. Mi piace. Andiamo. L'acquario è vero. Grazie a tutti. 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 Non ho più uno schifo. No, possiamo orientarci con l'altezza. Merda. Grazie a tutti. Alabama. Quanto manca per la ruota? Che ne so. Boh. Ah, è lì la ruota. Ah, non manca tantissimo. Siamo vicini. Ma porca vaca o... No, non è lontano. Più che c'è il mare davanti, quindi non so come riuscirà ad andarci. A nuoto è impossibile. Cioè, è un suicidio a nuoto. O trovo una barca, come ha fatto Ellie. e... Ehm... Dov'è adesso? Andiamo a nuoto? Dov'è. No, ma siamo qui, praticamente. Vai. C'è il mare meno mosso Di quando era andata Ellie Oddio le navi non mi piacciono a me C'è le navi abbandonate Resident Evil 7 è una brutta esperienza Will vado a stendermi Nonostante la dreanea di questo merdaio senza fine L'influenza mi sta annientando Concedimi qualche ora di sonno per riprendermi Ho messo a dormire la nostra piccola ape Penso che tutta quella violenza l'abbia scossa Mi ha chiesto Mamma perché tu e papà spingevate quelle persone Le ho spiegato che era l'unico modo per salire a bordo Annuito Ma non credo se abbia effettivamente capito Forse Avrei dovuto darle una risposta diversa Non lo so Ad ogni modo se si svelasse prima di me Leggi uno dei miei suoi libri L'aiuti sempre a calmarsi Spero che tu abbia risolto quel problema con i relazionamenti Ti amo Queen Televisore che si spegne Due frecce Quindi anche Abby avrà l'arco Mi raga di munizioni si è ammessi veramente una cacca Sì ho le frecce ma non ho l'arco però Aspetta non è che non l'ho visto No non c'è proprio No non c'è proprio La palestra Fighissima Non ha l'arco Ha la palestra lei Che figata La palestra Oddio Che che mi ha visto Le frecce dalla palestra sono più resistenti Quindi è possibile recuperarle più spesso Ok Mi stavo storsando Volevo ringraziare per l'aiuto Con il passeggero infetto Siamo fortunati di avere a bordo qualcuno Che abbia il coraggio e le esperienze necessarie Il resto dell'equipaggio è una manica di imbecilli Di imbelli Lei è un imbecile nel senso che imbelle E non concordo con l'idea del capitano di tenere sotto chiave le armi Non possiamo fingere di ignorare Sul traghetto ci sono dei passaggeri infetti L'armadio delle armi sul ponte superiore di Poppa Combinazione 90-77-01 La palestra è lì dentro Mi fido di lei Abbiamo già la palestra Sul ponte superiore di Poppa Allora 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 ...dai! Virginia occidentale. ...dai! 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 guarda che parte n***a un labirinto sta nave guarda che ci sono No giro tolando, vabbè? Grazie. Raga, non c'è niente a fare comunque, con le frecce sono un mostro. Oh no, c'è un grassone lì. Ma sto pezzo di... Devo farlo per forza fuori con la bomba, quello. Raga, non c'è nessuno. Raga, non c'è nessuno. Oh merda. Fatti fuori tutti. Vabbè se c'è la cassaforte qua ragazzi, forse in sta porta. Ok. Ok. Vabbè un... un tiro di bordo. Dov'è la cassaforte? Sul ponte superiore di poppa. Ok. No, non posso più prenderlo. Aiuta. Allora, pazienza. Ok. Riproviamo. Devo provare di sopra. Ok. 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 Grazie. Ah, siamo arrivati. Oh, deve essere dall'altra parte. Alla prossima. Leila? Ah, qui c'est ça? Cosa mi tocca fare per te? C'è il giro che si rompi le taglie per questo vetro. Ehi Owen! Raga ci siamo! Non erano qua i corpi? Cosa? Ehi, sei lì dentro? Ma forse è qui dentro. No. Certo. Nella barca? Owen! E' sopravvissuto! E' prima o' dopo? E' dopo, perché non c'è la tizia? Ah, eh sì perché non è neanche ferito. Ok? Passa. Come vuoi. Danny è morto. Immagino. Non bene più. Mi dici che è successo? Stavamo ripulendo un accampamento. Giusto un paio di iene. Ho colpito uno dritto in testa. Forte. E lui è andato giù. Eh. La sua arma era lì di fianco. Ma lui non l'ha cercata. Si è voltato verso di me. Ed era vecchio. E' stanco. E' stanco. Sembrava... Pronto. Ne ho uccise di iene. Però... Con quello stronzo... Non ce l'ho fatta. Ovviamente Danny a quel punto si è incazzato. E io gli ho detto che poteva continuare da solo. Mi ha puntato contro la pistola. Ma... Ho provato a fermarlo così. Non sapevo neanche se avesse preso me o lui. Ti sei solo difeso. Smettila. Posso risolverla io. Parlerò con Isaac. Io sono stanco, Abby. Non voglio lottare per una terra di cui non mi frega più un cazzo di niente. Incomprensibile. Io vado a Santa Barbara. California. Solo per delle voci. Ne ho sentite diverse. Le luci non stanno ritornando. Sono andate. E' una pista. Io voglio provare. Quindi c'è il dubbio che le luci esistano ancora in realtà. non pensi a me. Non correre eschi qui. Ok. Ne riparliamo quando sarai sopra. Non fare cosa. Mi tratti come se fossi uno schizzato. Ma sei d'accordo con me? Se le luci fossero a Santa Barbara. Io me ne andrei il più lontano possibile. Cosa? Sì, sono cresciuta. Dovresti provare. Aia. Frecciata. Ah sì? E come dovrei fare? Dovrei cercare chi ha ucciso la mia famiglia. Fermarli. Potrei torturarli fino ad ammazzarli. Abbi. Eccoli lì. E ci danno pure dentro. Di brutto. No! Mi bloccano il canale! Ragazzi cosa sto guardando? Ragazzi. Fermarli. Ragazzi. Mi dissocio. Totalmente. Minchia ragazzi. Comunque un maschio. Minchia proprio. Orca Puzzolandia. Twitch ti prego. Non mi banare niente. Sebbene. Non mi banare niente. Ancora a sto punto? Sebbene. Che cosa? Che cosa? Ancora a sto punto? E' un incubo questo però Oh mio dio Sono quelli di prima E' un incubo Ok Allora comunque C'è Madonna C'è un fisico di merda sta tizia C'è C'ha le te Ma non entro neanche particolare Non le ha praticamente Ecco perché avevano detto che c'erano scene di nudo Vabbè una mi insegna per la te Che belle le musiche raga però Si atto il giorno 2 Ah lei è tornata per Che diavolo sto facendo Per quei due Sono iene cazzo Perché li ha sognati si è sentita in colpa Mi sta stupendo Abby però eh Devo dire la verità Non lo perdonerò mai per quello che ha fatto però Mi sta un po' stupendo Non devo cadere Ok Ok Fa culo Almeno so che è vivo E la madre Ha rinunciato a cibo e l'acqua Di malemitezza Povera donna Le ha cresciute lei Lei le ha istruite bene Ma alcuni nascono maledetti No Come ho fatto a non morire Porca di qua E la madonna Vaffan No con i grossi no però Ah boh raga No raga fermi Ricarica checkpoint Ma affrontarle così no Sono troppi Non voglio fare le cose Sbagliato Cacchio quindi la balestra Non one shot Come l'arco Cioè one shot Solo gli infetti E vabbè però Cocane Vabbè però Scusate però Va bene che è grosso Però in testa devi morire Se ti colpisco in testa Con un proiettile Amico mio Non puoi sopravvivere E che cazzo E dai Cosa vuol dire Da Robocop No ma mi avete rotto Le tre quarti Ah bella domanda Vabbè raga Sono circondato Guarda che coincidenza Ragazzi l'ho preso in testa Non muore Dai ma cos'è Dai ma cos'è No regà Come si fa a sto pezzo È impossibile Sono tutte ci sono tutte le parti non è possibile non farsi vedere ma che roba allora porca di quella oh m'avete rotto oh e basta sto gigante maledetto mori arrecciato in testa muori però si va boi mortale non lo fare che vuoi fare merda dov'è il tuo lupo? non è lontano ragazzi non ho neanche un colpo ragazzi non ho neanche un colpo sta figlia di... oh ma mori sta trota crepa imbecille esattamente vabbè un po' meglio Abby effettivamente di quella lì però oh ma mi è rotto però ragazzi non ho più un colpo non posso difendermi l'unico modo è aggredirli con la mazza però c'è una freccia lì eh ma non la sprecherò per te mi spiace ma che cazzo questo pezzo è veramente stronzo comunque qua tavolo da lavoro ma qua ce l'hanno già stati però o sbaglio ah beh non possiamo far niente infatti sì qua ce l'hanno già stati oh da che parte dobbiamo andare ah qua ragazzo ci siete ancora non ti avvicinare sono io scusa come sta è morto no minchia che male raga porca miseria c'è la febbre giustamente ti muovo il braccio c'è il braccio bordo raga dove la porta l'acquario porca miseria c'ho il max carico ragazzi aspettate mi sono accorto in tempo owen ehi owen sveglia sono qui sono ieri mi servono tutte le medicine che hai ehi metti l'arco mettilo giù mettilo giù ehi calmati che cazzo elise leva abbassa l'arco è ok abby chi sono questi mi hanno salvata puoi darle un'occhiata buona elise lei è iara cos'è stato un martello io non c'entro sdraiala 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 sento dolore io lo sai è fatto troppo bene iara pensavo di lavarlo e di ricordare l'osso è frantumato porca sindrome compartimentale cosa vuol dire vuol dire che va amputato è un soldato ha bisogno del braccio se lo lasciamo andrà in cancrena fammi passare il dolore ti prego no ragazzi non posso guardare mi andò a vomitare cosa ti serve devi tagliargli il braccio idealmente sega punti morsetti antibiotici ma ora la teoria conta poco abbiamo coltelli e fuoco puoi cauterizzare morirebbe di infezione fa un elenco vado all'ospedale impiegheresti due giorni non mi interessa non lo dico per te ebby non può resistere due giorni ragazzi ecco perché c'era un cane nell'acquario era quel cane lì era Alice quando abbiamo con Ellie l'abbiamo ucciso è vero non erano esperimenti era perché hanno appuntato il braccio a questa tutto torna probabile sì fai l'elenco ehi dici sul serio quei punti sono pieni di iene sì ma girano solo in piccoli gruppi sentito piccoli gruppi non è uno scherzo cioè dobbiamo andare in un campo di iene a saccheggiare queste malati che lei possa guidare che lei ti protegga ma che che lei vi protegga con queste cagate eh pure io voglio Ellie infatti mi hai preso le chiavi scusami cioè cazzo hanno giocato tutto il gioco con lei adesso scusami non lo sa nemmeno lei lei è appena arrivata ok non credo che sappia la notte scorsa non mi importa di quello ma a me sì quale raga comunque ci stanno torturando eh vi spiego pure il perché adesso cioè ci hanno lasciato i suoi spine in un momento con Ellie e Abby in un momento cruciale e sono da tre ore che stiamo giocando con questa qua il suo passo cioè quello che ha passato e voglio vedere cosa accade lì annaggia miseria come arriviamo a quei palazzi altissimi il ponte Ellie questa strada porta dritta in centro il percorso parte dal fiume in tempesta da lì in poi so dove andare ma raga io cioè sto dicendo questo che voglio Ellie perché cioè tutto il gioco è così sta diventando quindi non vorrei che poi quando torniamo con Ellie il finale finisce il gioco cioè che pizza sta durando veramente tanto la parte con con Abby lupo eccolo è il palazzo dove stiamo andando mi mazzeca lo vedo che succede se ne sentiamo le scorte alla tua vita dovrà operare con quello che riesce a trovare da ora e ho capito non cado mai ma qua il salto è impossibile da fare acqua vediamo di arrivare in cima al palazzo eh quattro ore e mezza lo so sei mai stato su questi ponti prima sì si troveremo molti anni più che altro dovevo finire la parte con Abby però si sta dilungando veramente tanto e sei pronto ad affrontarlo ma io spero che non ci fanno vedere quando amputo il braccio sennò vomito raga ovviamente questa grafica realistica sarà un bel colpo allo stomaco vedere un'amputazione non ci fanno chiunque lega questo messaggio mi importa chi non mi importa se il lupo se la fita o come stracazzo vorrà farsi chiamare ma i salvi per favore farò qualsiasi cosa per scegliarmi la bacia sparare a qualche senso della fedra qui non importa un caso di me non posso morire ah c'è un punto una virgola qua non posso morire qui non voglio morire qui per favore per favore mi troveranno mi faranno apprezzo mi sa che l'hanno trovato infatti l'hanno trovato mi farò mi farò Tutto ok? Sto bene. Sicura? Sto bene. Ci stiamo avvicinando al palazzo. La dentro è pieno di iene. Dovremmo procedere a zigzag. Un'altra PlayStation 3 ragazzi. Quando siete scappati esattamente? Due giorni fa. E per andare dove? Non lo so. Solo... lontano. Ora vuoi dirmi perché ti stanno inseguendo? Lo sai? Vogliono ucciderti perché ti sei resato la testa. Non era permesso. Ma è la regola. E lo infranta. Gesù. E perché l'hai fatto? Non lo so. Sei un tipo punk? Punk? Nel senso che non segui troppo le regole. Oh. E in effetti. Oddio mi sembravano le tartarughe ninja per un attimo. Programmi. O va? No. E in effetti. E in effetti. Una cassaforte, ma sei serio? Questa bella combinazione qua... Non c'è nessun indizio ragazzi Parlo piano raga perché è tardi Oddio forse è il numero qua 302 L'unico numero che c'è E' quello No troppo i numeri Fammi rileggere il codice Come fammi rileggere il codice perché ce l'abbiamo Ah Ne hanno sparato Ne ho uccisi due Un altro si è salvato Lascio la porta aperta A quel che è provvisto in cassaforte La convenzione è il numero del nostro appartamento Seguito da quello del vostro Però vedi c'è volto L'avevo capito già io 302 304 Ranca il numero Otro Tur確 Il numero Inversario B C'è potenziamento armi da fuoco crea cartucce incendiarie mitziger bene quando hai imparato a usarlo? Laco, da piccolo sei in gamba? non hai quanto iara merda tempo sei in gamba 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 e vabbè che cazzo c'è qua dentro? c'è raga c'è l'esercito lì dentro che cacchio dovrei fare qua? ah lì aperto no posso comunque arrampicarmi quindi 這樣子 non 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 Grazie a tutti 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 Porca Grazie a tutti 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 Un cuo Grazie a tutti Preso Grazie a tutti Grazie a tutti No Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Quanti pezzi Grazie a tutti 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 Lo sapevo Grazie a tutti 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 Oh Dio Grazie a tutti Porco Mamma mia Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Forza Ci sei Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Bene Ok, bene Grazie a tutti 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 Porra Grazie a tutti 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 Ah, la barca è andata. Mi servirebbero un po' di medicinali, mi li ha chiesti Isaac. Tutta questa roba va proprio a Isaac. Che gli serve? Ah, non posso parlarne. È una cosa dell'avamposto. Beh, è tutto pronto al trasferimento. Dai un occhio e vedi se qualcuno ha quel che cerchi. Ehi, Nora è in giro. Ieri ha detto che l'avrebbero trasferita. È appena partita con l'ultimo mezzo, ma tornerà. Ok, grazie. Raga, mi manca Ellie però, madonna. Che cos'hai lì? Stecche, a bassa lingua, padelle... Nulla di chirurgico. Sì, dentro ho visto qualcosa del genere. Grazie. Ha sparato a Danny. Se è fortunato lo troveremo prima le mie. Ah, ciao Orsa. Ti hanno portato fin qui? Ah, Orsa, eccolo. Infatti eravamo all'ospedale quando abbiamo ucciso il cane con Ellie. L'ultima barca è partita. L'ultima barca è partita. Quando arriva la prossima. Passo. Ciao ragazzi. Oh, Abby, hai saputo di Danny? Girano voci. Non le alimentate. No, tranquilla. Bene. Meglio così. State ancora ripulendo qui? Sì, un piano alla volta. Ci sono ancora scorte lì? Sicuro. Mancano ancora diversi piani. Ah, buona fortuna. Ehi, Abby. Anche tu sei finita qui. Sì, un bel viaggetto. Mi servono medicinali. Sai dirgli dove posso andare? Abby, ho parlato con Isaac. Ti aspetta all'avamposto. Fammi parlare con lui. Lo farai di persona. Rientri al prossimo carico. Mi spiace. Che stai facendo? Ha disertato da ieri. Dammi le mani. Cazzo. Merda. Ah, così si è fatta prendere... Ehi! Ehi! Liberatemi, cazzo! Maledizione. Così ti russerai la spalla. Nora. Wow. Non pensavo ti saresti inimicata, Isaac. hai visto Owen all'acquario? Ho parlato con Manny. Mi servono i medicinali. Per chi? Chi gli è successo? Sindrome compartimentale. Braccio frantumato. non lo stai curando tu, vero? No. Mel. Non c'è molto tempo. Gesù. Molte delle scorte sono state imballate e spedite. Che cazzo. Cosa? Non abbiamo ancora liberato i piani bassi. Troverò qualcosa. Sì, probabile, ma... C'è un casino là sotto. Ce la farò. Se ti scoprano... Io non sapevo niente di questo. Ma certo. Dai, vieni. Sindrome compartimentale. Cazzo. Già. Fortuna che sta con una dottoressa. Mel si è ripresa? Ripresa? Era messa male dopo aver parlato con Isaac. Ha parlato con Isaac? Dopo la tua partenza. Isaac ci ha interrogati tutti. A lei è andata male. Qualcuno ha parlato? No. Dove andate voi due? Apprenderebbe. La barca è pronta a partire. Ho ancora delle casse al secondo piano. Potreste prendere? La barca è piena. Dai, non voglio stare qui tutto il giorno. Va bene. Grazie. Sono andati. E tu stai bene? Come sempre. Sta incarnando pure il suo per aiutare Abby. Figurati se parlava con Ellie di dove era. Lo scoprirà presto. Dopo che Mel avrà... Un attimo. Tutto tranquillo. Comunque, quando Mel avrà amputato quel braccio, cosa farà Owen? L'ho sentito parlare di Santa Barbara. Lo sa che sono tutte cazzate, vero? Mi dispiace tanto per Mel. Sì. Anche a me. Ok. Qui abbiamo la terapia intensiva, un centro emergenze e qualche sala operatoria. Sembra perfetto. C'è un motivo se non siamo entrati in questa zona. Era l'epicentro del contagio. Hanno portato qui gli infetti prima di capire il problema. Sarà un inferno di funghi. Fantastico. Se butta male, cerca nelle ambulanze. Mi è già capitato di trovare scorte a porto. Buona idea. lotta per sopravvivere. O per morire in fretta. Ci vediamo alla base. Presto, spero. Già. Bene. Bene. Or Red. Calma. Percorso, la cultura... E' Ok, chirurgia, emergenza, oddio. Forza e coraggio. Non sembra così male. Ha parlato. Adesso succede il casino. Unità di terapia intensiva. Chiusa, ovvio. Sarebbe troppo facile. Ok, chirurgia o emergenza. Chiusa, ovvio. Quella, inquietante. Il giorno del contagio è stato un incubo. Pronto soccorso. Il centro di emergenza è lì. Spore. Iniziano i problemi. 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 Ecco E' tutti svegli E' tutti svegli Grazie a tutti. 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 Hohoho. Ok. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bello. Deve pure esserci qualcos'altro. Che sa per il culo. Grazie a tutti. Oh mio Dio. Cos'è? Ma ci devo entrare, no? Ho bisogno l'ambulanza. No. No. Bloccata. Andiamo, dammi qualcosa. Un'altra. Fa che ci sia un'ambulanza nel garage. Sfiga, che sfiga. Ah, non ci posso entrare, meno male. Infatti dicevo che cacchio è sta roba. Sfiga, che sfiga. Sfiga, che sfiga. Sfiga. Aspetta e spero. Sfiga. 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 Dove mi sono andata a cacciare? Eh, un inferno. Sfiga. 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 Anche tra l'hanno nel lucio. Sfiga. 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 Cos'è cazzo è quel coso? È nuovo questo? Oh, stai scherzando? Che ha l'ansia? Muoviti! Oh, mamma! Che roba brutta! Che roba brutta! Ma come faccio a ucciderlo sto affare? È possibile! Che roba brutta! Che roba brutta! Che roba brutta! Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. Nessuno credeva mai a questa storia. Oh... Oh... Spero che... 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 Ti avevo detto di aspettare... Che... 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 è... Che... Che... è... Che... 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 Grazie a tutti. Niente ragazzi, non ci fanno più usare Ellie, è ufficiale. Il gioco finirà con Abby. Chissà, sono cinque ore che stiamo usando lei. Diventata lei la protagonista, Ellie non esiste più. Oddio, forse ci siamo. Forse è il punto quando... Quando trova loro morti? No. Owen, sono io. Che ci fai sveglia? Stavo cambiando le garze a Yara. Incredibile, già in piedi. Le iene... Non scherzano. Perché stanno litigando? No, vaffanculo, Yara! Io non ti lascerei male! Levo vuole restare a Seattle. Ma Owen li ha invitati a... Santa Barbara. È... Tipico di Owen. Ormai l'avrei convinto a non partire, giusto? In realtà vado con loro. Comunque c'è un inciuccio tra sti tre, la ragazza è allucinante. Cosa? Lui si sarà anche bevuto la tua sceneggiata. Però io no. Di che sceneggiata stai parlando? La grande assassina di Yene cambia idea e si converte. Non c'è il Drawn. E' vero? Senti, ho fatto degli errori. Tu sei solo una stronza, Abby. Lo sei sempre stata. Di chi? Questa è ferito. Non si è cambiata. Questa è molto ferito. Vuoi aiutare quei ragazzi? Esci dalle loro vite prima di rovinarle. Porca puttana! Questa l'ha sentita. Ecco appunto. È bella maglia. È bella maglia. Stai... Stai bene? Il tuo braccio... va... un po' meglio di stamattina. Lev si è convinto. Lo farà. Mi potresti aiutare a cercarlo. È abbastanza agitato. Certo. È il corso via di qua. Lev! Lev! Torna qui, per favore! Come ragazzi, uno se non sa fischiare non può diventare una... è preoccupato per nostra mamma. Ma io, ma... Cosa le succederà a causa nostra? E fa bene? No, ora deve pensare solo a salvarsi. Cosa rischia tua madre? A volte i genitori sono chiamati a espiare i peccati dei figli. Ma lei è molto devota. Non avrà problemi. Esiste un modo? Per aiutarla? Non accetterà mai di partire. Questo è certo. Ma non so cosa potrebbe fare a Lev. Lev! Lev! Mi dispiace! Lev! Guarda! Chissà se l'ha visto. Lui adora gli squali. Adora gli squali? Ma odia l'oceano. Ti ha raccontato molte cose. Sì, la paura di morire fa miracoli. Sei stata coraggiosa? Non direi. Non so come ringraziarti. Lo senti? Lev! Lei è in circuito. Spavento. Tranquilla. Vuole solo giocare. Ehi, bella. Cos'hai lì? Non ti fa niente. Ok, guarda. Vai, prendilo. Forse ha ancora voglia di giocare. Ok, un'altra volta. Guarda il comportamento che mi segue. Eh, modifalo tu. Vuoi provare? Non credo sia una buona idea. Non proverà a mordermi, vero? No, promessa. Un'altra volta. E' bella questa scena. Continuiamo a cercarlo. Speriamo che non è scappato fuori sto bambino, raga. Lev, se no... Lev! Perché fa così? Pensi sia possibile che convinca tua madre? Se l'avessi vista in quel modo l'avrebbe strangolato a mani note. Minchia. Che cosa ti ha detto? Beh, non molto. So che alcune persone lo chiamano... Lili. Per molto tempo... Non riuscivo a capire perché volesse mettere in dubbio le leggi... Le tradizioni. E quando... Quando mi rivelò... I suoi veri sentimenti... Io gli rispose di tenerli nascosti. Cioè... Gli hanno cacciati perché si è rasato i capelli. Cioè... L'ho fatto. Non sono a posto, eh. Quelli lì. Dio, che stupida. E io ho un'idea. Lo tiriamo su di morale. Vieni. Perché si è deciso proprio ora? A rasarsi intendo. La settimana scorsa... Ha conosciuto il suo ruolo. Voleva essere un soldato come me. Ma la comunità l'ha offerto in moglie a un anziano. È... Tradizione. Povero Lev. L'ha offerto in moglie a un anziano. What the fuck? Dov'è Santa Barbara? È in California. Dov'è la California? Sì, ecco, vedi... Qui c'è Siapton. E... Questa è Santa Barbara. E la nostra isola? È troppo piccola, ma sarebbe qui. È lontana. Già. Bene. Deve essere rimasto qualcosa qui in giro. Ma... Queste magliette non sono granché. È lontana... Oddio. Sì. Niente male. Vedi qualcosa che ti piace? Nooo... Cerchiamo ancora. Ecco, avete i squali. Perfetta. No, eh? No. 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 Hai visto, Deb? Sì, là nel corridoio. Non è scappato. Ti raggiungo. Non ha capito che scherzavo. Non ci so fare. Già. Tu vai forte, invece. Allora... Vieni a Santa Barbara, vero? No. No, non posso. Perché? Lo sai perché. Senti, troveremo un modo. è troppo tardi. No. No, non è vero. Lo so. Lo so che è un vero casino. Lo so. Lo so. Ma possiamo essere felici. Ma possiamo essere felici. E' bene. Nessuno ce lo impedisce. Oh mio dio. Che cazzo è successo adesso? Leb! Torna indietro! Che lo sape... Io lo sapevo sto bambino di me. La brava la indiettiva. Che bisogna se cal overe! Che cosa work! Sua madre. Lei l'ucciderà clarify. La barca è pronta. Non ancora. Quanto tempo ti serve? Ah... Qualche ora. Che si so? Che cazzo staffi... Che cosa soreca. Che cosaவo愈? Ma se lo ricordi un mio nome che mi è servito adesso. Molto sicuro che fosse più riscosso. Che cosa vuole questo? 그�O? da sola? Sì, invece. Posso aiutare? Sì, restando qui aggiustando la barca. Hai le tue priorità. Yara, andiamo. Entra, gà, Ellie non la vediamo più, secondo me. Ecco il porto. Come stai? Tutto bene? Ok. Aritroni trova morti, è vero, può essere. È una base di lupi? La usiamo come molo per le barri. Ok. Allora, per stasera, basta, minchia, sono le quattro, sono quasi le quattro, siamo quasi sette ore di live, ragazzi. Niente, stasera è serata Abby, a quanto pare, e che dire? Oh, siamo ancora in tre, mamma mia. Tutti matti. Vabbè. Comunque, raga, io salvo. Vediamo quante ore di gioco siamo. 22 ore e 38, ragazzi. Eh, siamo quasi alla fine del gioco, comunque, raga, secondo me, eh. Domani sera probabilmente lo finiamo. Ho questa impressione, perché 22 ore con Abby ho corso un attimino di più rispetto con Ellie che stavo là a esplorare tanto. Oddio, anche con Abby ho esplorato, eh, per carità. Non lo so. Secondo me siamo quasi alla fine. Probabilmente, perché... Torna al menu principale. Voglio vedere una cosa. Torniamo un attimo al menu principale. Se andiamo su Extra. Bozzetti. Eh sì, raga, non manca tanto, secondo me. Vedete che... Se qua sono tutti i capitoli che abbiamo fatto... Compro tutto. Vediamo la galleria dei modelli, raga, poi stacchiamo. Vediamo cosa c'è di nuovo. Eh, niente, raga. Quanta roba da prendere, porcaccia. Vabbè. Raga, grazie a tutti per essere stati qui con me. Io vi saluto, vi auguro buonanotte. E ci vediamo domani. Seguitemi su Instagram, ragazzi, per saper lavorare di tutto, come sempre. E niente, raga, buonanotte.